Mi chiamo Filippo, per mantenermi faccio l'attore, anche se il mio sogno è quello di fare il cameriere, il barman e lavorare nella ristorazione. Ecco, io qui faccio le prove tutti i giorni, quando devo preparare un provino di solito, prego vieni pure qua. Io mi scaldo, faccio training, poi di solito qui mi do una sciacquata. Il mestiere d'attore è il primo che ho trovato per mantenermi, cioè nel senso non è che è una scelta, cioè la scelta mia è quella di lavorare qui. Harrison Ford, per esempio, mi aveva un sogno, cioè gli piaceva fare il falegname e invece non riusciva a guadagnare abbastanza soldi e alla fine gli hanno dato una parte in Guerra Stellare, cosa è stato? Cioè, e da lì entri in un tunnel e non riesci più perché, poi hai capito, non riesci più a dedicare il tempo a quello che davvero ti piace e finisci a fare l'attore. Ma sai quanti che è un casino? Questo è il mio posto, io voglio stare qui, dietro un bancone a servire la gente, non voglio stare la sera a farmi il culo nei teatri, a lavorare, a stare sul palco. Io voglio lavorare qui, in mezzo alla gente, con i piattini, voglio toccare, voglio fare il caffè, voglio bere un macchiatone. Io voglio stare i panini, voglio stare, cazzo, alta merda. Io ho cercato di dimostrarvi quello che so fare con questo video, spero che vada a buon fine, se Babilonia teatri o il Verdi o lo stabile del Veneto oppure l'Herta hanno bisogno di un ragazzo che faccia il cameriere, che lavori nei bar dei teatri. Cazzo, io sono, cazzo, sono bravo, io so fare tutto, cazzo! Cazzo, dove guardi, tu? Cazzo, guardi!